Se avete visto il video sulla glicolissima potete ripassare e vedere se effettivamente avete afferrato il concetto e i caratteri essenziali del processo facendo questo test che è contenuto nella stessa app che ho usato per fare il video della glicolissima e il cui link trovate sotto questo video come sotto quell'altro. L'app è in inglese ma questo vi dà un'idea di quanto sia facile la traduzione da inglese a italiano insomma del linguaggio scientifico soprattutto questo biochimico in quanto i termini sono più o meno gli stessi hanno le stesse radici praticamente quindi questa domanda vi chiede il processo della glicolisi richiede un apporto un input un apporto di energia in forma di ATP produce energia in forma di ATP oppure tutte e due le risposte sono giuste quale scegliereste se avete visto il video sapete che tutte e due le risposte sono giuste in quanto nella fase preparatoria vengono consumate due molecole di ATP nella nella seconda fase quella in cui di ricavo energetico vengono prodotte quattro molecole di ATP quindi è valida sia la sia la b fosforilazione means cioè che vuol dire la fosforilazione vuol dire che un gruppo fosfato verrà agganciato una molecola o un fosfato verrà rimosso da una molecola bene quando parliamo di fosforilazione e nella glicolisi avviene una fosforilazione a livello di substrato cioè direttamente l'enzima direttamente che sposta un fosfato da un all'altro lo usiamo questo usiamo questo termine per indicare quando viene aggiunto il fosfato a una molecola e questo succede in diverse tappe della glicolisi in due tappe della glicolisi dove avviene la glicolisi cioè where does the glicolisi take place lo abbiamo detto la glicolisi riescono a farla praticamente tutte le cellule completa o in parte ma riescono a farla tutte le cellule quindi avviene soltanto nel citoplasma cioè in in quella soluzione liquida presente tutte le cellule dai batteri fino agli eucarioti qui identifica le due molecole che sono isomeri se avete visto il video precedente lo sapete immediatamente ma basta contare gli atomi quindi è molto facile il difosfo glicerato quella a destra ha due gruppi fosfato quindi non può certo essere isomero dell'altri due e i due isomeri sono di idrostriceton fosfato e la gliceraldeide trefosfato ricordate che questi vengono prodotti nella quinta tappa della glicolisi e nella quarta tappa della glicolisi e il idrostriceton fosfato viene tutto trasformato in gliceradeide trefosfato g 3 p perché solo quella va avanti nel processo della nelle seguenti tappi della glicolisi quando vi chiede quando una molecola si dice che viene ridotta allora riduzione ossidazione sono inquadrati nelle reazioni in cui vengono scambiati gli elettroni quindi vengono donati elettroni o vengono tolto elettroni come posso donare gli elettroni a una molecola posso o dargli direttamente elettroni come vedremo nella catena fosforiazione ossidativa oppure posso dargli degli atomi di idrogeno perché tanto l'idrogeno è meno elettronegativo del carbonio per cui quando io aggiungo atomi di idrogeno a una molecola è come se gli dessi degli elettroni a una organica ovviamente se invece glieli voglio togliere posso toglierle direttamente gli elettroni come succede nelle varie azioni di ossido riduzione oppure posso agganciare a questa molecola degli atomi di ossigeno in quanto l'atomo di ossigeno è così elettronegativo che comunque addensa su di sé tutti la nuvola elettronica di legame quindi possiamo dire riduzione quindi una molecola viene ridotta quando o gli do atomi di idrogeno o gli do elettroni una molecola viene ossidata invece quindi deprivata degli elettroni in genere si punta sempre al carbonio diciamo in chimica organica ossidazione riduzione quando o gli aggiungo ossigeno o gli tolgo elettroni in effetti la molecola in cui il carbonio è più ossidato in assoluto quindi raggiunge il suo massimo grado di ossidazione numero di ossidazione cioè più 4 è l'anidride carbonica in cui il carbonio è legato con quattro legami due doppi legami all'atomo di ossigeno quindi in questo caso lui ci chiede quando è che viene ridotta quindi quando guadagna gains an electron cioè quindi quando prende un elettrone oppure quando prende un atomo di idrogeno quindi le risposte giuste sono a e c allora qui mi chiede qual è il nome corretto di questa molecola una degli intermedi della glicolisi allora se avete visto il video lo sapete però è molto facile ricavarlo allora la cosa importante è la numerazione qui abbiamo tre atomi di carbonio che sono numerati con 1 2 3 e il primo atomo di carbonio è quello che ha il gruppo più importante in questo caso siccome è un acido carbossilico il gruppo più importante è quello che che lega col doppio legame l'ossigeno da parte e con un legame semplice l'ossigeno dall'altra quindi è quello in alto quindi questo sarà il numero uno questo sarà il numero due questo sarà il quello più in basso sarà il numero tre carbonio tre quindi poi di fosfo glicera glicerato quindi qui lui mi chiede dove mi dice che ci sono due gruppi fosfato e mi chiede sostanzialmente la posizione di queste quindi abbiamo detto il carbonio più in alto il numero uno il carbonio centrale numero due il carbonio più basso il numero tre quindi l'unica spiegazione possibile c'è l'unico nome giusto di questa molecola è uno tre di fosfo glicerato poi qui mi dice qual è il nome del processo illustrato qui sotto allora in questo processo avviene un passaggio di gruppo fosfato da una da una molecola all'atp all'adp scusa per formare atp questa questo tipo di reazione si chiama fosforilazione fosforilazione ogni volta che io aggiungo un gruppo fosfato a livello di substrato quando avviene tutto all'interno di un enzima e quindi l'enzima spasso sposta il gruppo fosfato da un substrato all'altro quante molecole di atp sono usate durante la glicolisi allora quante molecole di spi sono usate durante l'agricolisi intendo penso intenda consumate abbiamo detto ne consumiamo due nella fase preparatoria quante molecole di nadacca sono prodotte durante l'agricolisi abbiamo detto nella seconda fase vengono prodotte due molecole di nadacca perché avviene in doppio in una tappa dell'agricolisi quante molecole di piruvato sono prodotte durante l'agricolisi ricordate partiamo dal glucosio a sei atomi di carbonio produciamo molecole a tre atomi di carbonio perché abbiamo tagliato il glucosio a metà quindi da una molecole di glucosio se ne formano due di piruvato quante molecole di atp sono prodotte durante l'agricolisi qui non ti dice quante ne ricavi in totale ma quanti ne sono prodotte ricordiamo che nella fase di produzione di energia di ricavo energetico facciamo quattro molecole di atp due ne abbiamo consumato all'inizio quindi al netto sono due ma prodotte sono quattro quale composto sarà rimosso dal 2 pg allora dal 2 fosfo gricerato ricordate viene rimossa una molecola di acqua per formare un doppio legame formare il fosfo nel piruvato quindi la risposta giusta è la prima